Amici della Web Radio ben ritrovati, parliamo di teatro e più precisamente di uno spettacolo che si terrà il 29 e il 30 di aprile a Firenze al Teatro Ederest. Lo spettacolo si intitola La leggenda di Redenta Tiria, uno spettacolo di Salvatore Nifoi e per la regia è con Corrado Delia. E' con noi appunto il protagonista, nonché il regista Corrado. Benvenuto Corrado. Grazie, grazie. Ciao, ciao a tutti. Corrado, parliamo subito di questo spettacolo che ti vede sia come regista, come ho detto anche prima, che come attore principale. Subito, cosa volete trasmettere e cosa parla la storia? Cosa narra? Allora, è uno spettacolo che nasce da lontano, da un libro meraviglioso di Salvatore Nifoi, che è uno dei nostri principali e migliori scrittori, secondo me, narratori in questo momento in Italia. Nello spettacolo parla, sono storie di un paese strano in Sardegna, a Bacrasta, un paese particolare, insomma, dove tutti gli uomini prima o poi si legano la cinghia intorno al collo e si ammazzano. A un certo punto arriva a Redentatiria, questa femmina meravigliosa che li salva. Al di là della storia, che non è per nulla macabra e anzi spesso in alcuni contorni fa anche ridere, c'è un senso meraviglioso per la vita ed è uno spettacolo che racconta storie, episodi di questo paese. Dunque, quindi non è un spettacolo, perché pensando che in questo posto che si chiama Abacrasta, scusate se mi posso anche io a volte Abacrasta, che è appunto un luogo che è un luogo immaginario, giusto? Ma sì, come tutti i luoghi di Nifoi sono luoghi apparentemente immaginari, lo spettacolo ovviamente è quando Nifoi racconta di un paese che si chiama Norodile, che è vicino ad Abacrasta, facilmente pensiamo a Nuoro. Sono luoghi anche, questo nome è quasi impronunciabile, però per esempio in certe regioni della Sardegna, su Crastu è proprio la parte interiore degli mali, insomma, quindi quando vengono conciliati e vengono tolte le interiori, è un posto malfamato in realtà, un posto dove la vita... Perché le persone si impiccano? Qual è il senso? Ora noi non conosciamo il libro, però tu magari da attore ci puoi spiegare meglio, ma è un punto di... Ma in realtà non c'è una spiegazione a priori, è un assunto, le persone in questo paese arrivate ad una certa età si slacciano la cinghia come per andare a fare i bisogni, se la legano al colo e le donne usano la fu, questa è la partenza. Anche in alcune zone della Sardegna ci sono dei luoghi dove c'è un altissimo percentuale di suicidi, forse banalmente partiamo da questo, forse Nifoi ha conosciuto la dentatiria, questa femmina meravigliosa e ne parla, ecco, è un amore per la vita. Ceca, scusa, la descrizione è con i capelli lucidi come ali di corvo, questa è la descrizione ripresa appunto dal libro e lei è, scusate, la figlia del sole e sono venuta per portare la luce nel paese delle ombre, quindi questa donna si può dire che quasi simboleggia Dio? Ma è un Dio pagano, non credo in questo senso, è la vita, è il senso, è lo spirito della vita, poi per qualcuno la vita è Dio, per altri è altro insomma. Quindi è un po' interpretazione personale? È una cultura, io credo che la cultura, è una cultura di paese, in parte dove la religione ha un senso a volte che si mischia col pagano, ecco, quindi non è propriamente Dio in generale, secondo me, poi ognuno trova una risposta molto personale a questo. Fa riflettere, fa riflettere Corrado, giusto? Ma sì, ma fa riflettere, io quello che dico all'inizio dello spettacolo, si possono guardare le storie oppure ascoltarle con l'anima e col cuore, spesso dico anche chiudete gli occhi agli spettatori, lasciatevi andare, è un po' così, queste parole davvero sono musica, inoltre c'è questa musica meravigliosa, vera e propria, questa voce di Marisa Sannia, che è una cantante sarda che ormai non c'è più, ma che ha composto delle canzoni meravigliose, davvero meravigliose, ed è un impasto di voci, di cultura paesana che rimandano alla Sardegna, ma non a una Sardegna anche reale, ha un'isola del nostro cuore, ognuno di noi ha il cuore un'isola, qualcosa da raggiungere, qualcosa che è lontano da sé, ma in fondo si porta dentro al cuore, quindi è tutto figurato per me, figurativo anzi. Perfetto, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, nonché lettori della Nazione, che il 29 e il 30 di aprile al Teatro Everest di Firenze, lo spettacolo La leggenda di Redenta Tria, con Corrado Delia, appunto, fa anche rima. Corrado, grazie per essere stato a voi, buon lavoro, grazie, ci vediamo al teatro al più presto, grazie, a presto.